Ciao, bentornato sul canale YouTube dell'Associazione Culturale Maggiolina Siamo qui in questo video a parlare ancora di Windows e siamo ancora alle prese con l'ottimizzazione del nostro computer subito dopo aver installato l'aggiornamento di Windows 10 Oggi partiamo con una regolazione molto semplice per poi approfondire il discorso con una regolazione un po' più tecnica La regolazione molto semplice è questa Io ho installato l'aggiornamento di Windows 10 e mi ritrovo questa grafica, lo sfondo classico di Windows 10 Vorrei cambiarlo perché sono già stanco di vederlo ho voglia di novità di cambiare lo sfondo Allora, questa cosa vale anche per chi naturalmente ha Windows 10 già nel suo computer, non in seguito ad un aggiornamento tasto destro del mouse quindi premo il tasto destro del mouse in un punto qualsiasi dello schermo vado su personalizza mi si apre una schermata dove mi permette di gestire la grafica del mio computer in questo caso dice lo sfondo io però voglio approfondire il discorso quindi cambiare tutta la grafica del mio computer quindi mi rivolgo alla voce temi che mi permette di personalizzare tutto l'insieme grafico del mio computer vado su impostazioni del tema e qui mi ritrovo che ci sono dei temi classici allora questo è quello di Windows 10 ancora Windows 10, fiori e altri temi a contrasto elevato quindi altre cose classiche che abbiamo già visto in passato mi rivolgo invece come abbiamo fatto in un video di molto tempo fa ai temi online cioè alla grafica che posso scaricare direttamente da internet per cui per arrivare in questa posizione io devo essere su internet con il mio computer quindi devo essere collegato qui ci sono un sacco di temi grafici quindi di possibilità per personalizzare il proprio sfondo e vado a scegliere la voce animali e poi scelgo che ho visto precedentemente scelgo i gatti e vado a scegliere questi gatti in ogni dove dico download che significa scaricare quindi verrà scaricato da internet questo tema dei gatti eccolo qui che sta arrivando e va a finire all'interno del mio computer è arrivato qui è finito il tempo per cui è arrivato ci premo sopra per applicare questo tema all'interno del mio computer ed eccolo qua che è entrato in funzione quindi questo tema relativo ai gatti adesso fa parte della grafica del mio computer tant'è che se io chiudo tutto dovrei trovarmi eccolo qua un gatto di sfondo bene un'altra impostazione invece più tecnica che ci interessa fare è questa alcuni computer risultano essere lenti dopo l'installazione di Windows 10 che cosa posso fare? la prima cosa da fare intanto è togliere l'antivirus che eventualmente avevo installato sulla versione precedente di Windows perché in molti casi non è adatto a funzionare con Windows 10 e quindi questo causa malfunzionamenti per cui se una volta che hai aggiornato il tuo computer a Windows 10 questo non funziona proprio bene o è un po' lento o non si collega a internet in alcuni casi ti consiglio di togliere il vecchio antivirus quello che avevi precedentemente per toglierlo dovrai andare in questa funzione quindi andiamo nel menu di avvio sul pulsante menu di avvio impostazioni sistema e qui cerchiamo app e funzionalità e qui in questa schermata adesso ti appariranno tutte le applicazioni installate all'interno del tuo computer non devi far altro che premere sulla quella dell'antivirus e poi dirgli disinstalla ora io ho scelto un'applicazione che non si può disinstallare quindi questo disinstalla è sbiadito ne scelgo un'altra Google Chrome e qui potrei dire disinstalla anche se nel mio caso lo voglio ottenere perché Google Chrome è il mio browser preferito quindi dovresti cercare l'antivirus e dire disinstalla rimani senza antivirus? no entrerà in funzione l'antivirus dedicato di Windows 10 che è Windows Defender e quindi sarai comunque coperto dall'antivirus di Windows oppure potrai successivamente scaricare un nuovo antivirus anche della stessa marca che avevi prima però dedicato al nuovo sistema operativo che è Windows 10 bene però anche se hai disinstallato l'antivirus potresti lamentare un avvio un po' lento nel computer cosa si può fare ancora in questo caso? si può andare a fare una regolazione delle opzioni di avvio di Windows nel senso che alcuni dicono caspita Windows 10 impiega molto tempo ad avviarsi che cosa posso fare? questo andiamo qui in questa barra della ricerca quello che è chiamato Cortana quindi l'assistente di Windows quindi come hanno chiamato Cortana come se avessimo una persona che ci aiuta in quello che dobbiamo fare quindi io dovrei semplicemente digitare e questa persona virtuale mi aiuta dobbiamo digitare msconfig eccolo qua msconfig tra le varie opzioni ci dà questa configurazione di sistema che vado a premere e otterrò una finestra relativa appunto alle configurazioni di sistema mi interessano le opzioni di avvio perché voglio velocizzare l'avvio del mio computer e mi interessano le opzioni avanzate bene questa piccola schermata qua che io vado a spostare in questa posizione quindi se il mio computer è lento in accensione potrei provare a modificare questi due numeri questo qui dove io ho 1 e questo dove ho 0 in pratica dovrei attivando questa casella specificare il numero di processori presenti nel mio computer da utilizzare durante l'avvio e qui specificare la memoria massima del mio computer da utilizzare durante l'avvio in modo da rendere il tutto più veloce il problema è che io potrei non sapere quanta memoria inserire oppure quanti processori inserire allora ti faccio notare che nel momento in cui ho acceso memoria max qui è uscito 4096 d'accordo può andare bene questo numero ora lo scopriamo per cui adesso ci addentriamo nel nostro computer e vogliamo sapere quanta memoria abbiamo a disposizione e quanti processori monta il nostro computer per poterlo inserire in questa posizione per fare questo dovremo andare in questo pc qui questo pc solo che potresti non avere questo pc in questa posizione e quindi se non ce l'hai lo vai a prendere da qui quindi apriamo questa schermata quella che adesso si chiama esplora file e fino a poco tempo fa si chiamava raccolte quindi vado ad aprirla e arrivi in questa posizione qui sulla sinistra trovi questo pc quindi io ho premuto così per cui adesso ricapitoliamo potrei aprire semplicemente l'icona questo pc direttamente ed essere già nella finestra che mi interessa oppure se non ho a disposizione questa icona potrei andare qui in esplora file andare su questo pc e sono nuovamente nella posizione che mi interessa se volessi addirittura avere l'icona questo pc sul desktop mi basta premerla e trascinarla fuori eccola qui che adesso ne ho ne ho due bene allora restiamo concentrati sul nostro obiettivo era quello di sapere quanta memoria avere a disposizione quanta memoria abbiamo a disposizione nel nostro computer per andarla a inserire qui dove c'è scritto memoria max quindi nella finestra questo pc in un'area bianca premo il tasto destro del mouse vado a scegliere la voce proprietà e si apre una finestra che mi descrive il mio computer e mi dice che la memoria installata ram è 4 gigabyte il 3,46 utilizzabile al momento non mi importa mi importa sapere quanta memoria ho installata quindi qui dentro in questa finestra qui devo scrivere il numero il 4 gigabyte equivale a 4 miliardi e 96 milioni di byte per cui vado a scrivere 4.096 in pratica sarebbe questo il discorso se in questa posizione hai 1 gigabyte allora vai a scrivere 1024 1024 perdonami lo riscrivo perché non avevo la tastiera attivata 1024 se hai 1 gigabyte se hai 2 gigabyte sarà il doppio 2048 se hai 4 gigabyte sarà di nuovo il doppio andiamo sempre a moltipli di 2 e quindi è 4096 e sarà il caso più comune quindi quasi tutti avremo almeno nel nostro computer i 4 gigabyte di memoria RAM se dovessi avere 6 gigabyte di memoria devo inserire di nuovo un numero e lo otteniamo con la calcolatrice quindi vado da Cortana dalla mia assistente chiedo calcolatrice lei me la propone eccola qui la risposta in alto è sempre quella migliore è sempre quella all'interno del mio computer e mi viene fornita la calcolatrice che c'è nel mio computer allora la base era 1024 1024 per 6 gigabyte uguale 6144 quindi in questo caso andrei a scrivere 6144 mentre invece noi abbiamo messo abbiamo i 4 gigabyte quindi facciamo il calcolo anche per questi 1024 per 4 uguale 4096 e ci siamo bene la calcolatrice non ci serve più la andiamo a chiudere ora mi interessa sapere quanti processori devo utilizzare nel mio computer rivado sotto qui dove ho la finestra delle caratteristiche tecniche del mio computer ed è questo allora il processore del mio computer si chiama AMD A6 6310 A più e via dicendo bene questo è il processore il microprocessore la CPU central processing unit un affarino che esegue tutti i calcoli matematici che servono a far funzionare il computer quindi è un pezzo molto importante del mio computer è prodotto da due marche AMD oppure Intel Intel se vogliamo è più famoso e più pregiato io su questo computer ho AMD in questo caso ecco questo A6 questo numero mi aiuta a capire quanti processori ho perché intanto se c'è scritto processore 1 perché dovrebbero essere di più perché il nostro processore ingloba più core più cuori se volessimo tradurlo in maniera banale praticamente in uno unico ne hanno sovrapposti diversi per far funzionare più velocemente il nostro computer quindi il nostro computer è composto da più processori quindi la CPU il processore del nostro computer in realtà è composto da più processori sovrapposti inglobati all'interno di uno stesso supporto che permettono al computer di andare più veloce ho bisogno di sapere quanti sono nel mio processore quindi questo modello AMD A6 o che so Intel i3 e via dicendo ho bisogno di sapere quanti core quanti processori ha effettivamente me lo posso fare dire dal computer stesso da qua gestione dispositivi dove torneremo in un video futuro per fare un'altra operazione tecnica e dove c'è la voce processori clicco clicco sulla freccina eccolo qui e qui trovo uno due tre quattro processori quindi il mio AMD A6 6310 è un quad core un processore a quattro cori un quadri processore se volessimo chiamarlo in maniera sbagliata non tecnica bene quindi chiudo questa finestra chiudo questa finestra e qui dove c'era opzione avanzata di avvio numero di processore inserisco quattro e poi premo ok e poi premo ok e a questo punto il computer vorrebbe essere riavviato per applicare le nuove configurazioni che noi gli abbiamo dato in teoria dovrebbe essere più veloce in pratica dipenderà dal quindi dal processore dalla bontà dalla velocità del tuo processore da quanta memoria RAM hai nel tuo computer sono convinto che se tu avessi 6 GB di RAM nel tuo computer non ti troveresti a fare questi discorsi anche con 4 GB dovresti trovarti comunque bene io ho fatto il lavoro sul computer che ha un gigabyte di memoria sull'altro computer che ha un gigabyte di memoria e qualcosina ho ottenuto comunque vale la pena di provare bene con questo ti ringrazio per la visione ti saluto e ti do appuntamento al prossimo video dell'associazione culturale Maggiolina se ti è piaciuto il video fammelo sapere metti un mi piace commenta condividi e soprattutto iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto ciao buona giornata grazie a tutti